È un'altra pagina della storia di Riva che si chiude per sempre. Un capitolo archiviato, magari per aprirne un altro, con prospettive ancora tutte da scoprire. Una zona pregiata di Palazzo Martini, immobile di pregio e di valore storico in via Maffei, nel cuore del centro di Riva, è stato venduto all'asta per una cifra che si aggira attorno ai 360.000 euro. Non ci sono informazioni ufficiali sull'acquirente, ma di certo c'è che invece ad essere venduto è stato il cosiddetto piano nobile del Palazzo, mentre per l'ennesima volta non è andato a buon fine il tentativo di piazzare anche il teatro. L'ennesima asta giudiziaria presso il Tribunale di Rovereto si è svolta lunedì scorso, 11 gennaio. Si partiva da una base di 350.806 euro, con rialzi minimi di 7.000 euro. Quasi quattro anni orsono si era partiti da una base d'asta di oltre 800.000 euro. Per quello che viene chiamato il teatro, la base d'asta era invece più bassa, 243.000 euro. La storia recente di Palazzo Martini Moscardini è legata a quella della società Palazium SRL, che faceva riferimento all'imprenditore locale Alessandro Povoli e contro la quale anni orsono ha intentato causa una delle società creditrici, la Artim SRL. Mi era stato interesse anche da parte dell'amministrazione comunale, al tempo del compianto sindaco Cesare Malossini, quando si pensava che potesse essere l'ente pubblico ad acquisire l'immobile per farne la sede del Consiglio Comunale o comunque un punto di riferimento per il Comune. La prima asta giudiziaria è datata 2012. Allora il valore di tutti i beni in vendita raggiungeva la ragguardevole cifra di 1.700.000 euro. L'anno scorso si era scesi ben oltre sotto la metà del valore iniziale, decretato da una perizia giurata. In merito allo storico palazzo di Riva interviene anche l'ex consigliere comunale Rocco Frizzi, il quale sostiene che l'accessione ad un privato del piano nobile del palazzo è stata un'occasione persa. Per Frizzi l'ente pubblico avrebbe dovuto utilizzare i soldi del patto di stabilità per acquisire i prestigiosi locali, facendo notare che quest'anno il Comune si è trovato con un tesoretto di qualche milione di euro, utilizzato per vari motivi, tra i quali anche il rifacimento del manto, spogliatoi e tribune del campetto di Varone e in tutto ciò non è stato capace per la metà dei soldi di comprare il piano prestigioso di Palazzo Martini.